Ciao ragazzi, in questo nuovo video vi voglio parlare di una mia nuova, positivissima esperienza con un mio nuovo acquisto. Semplicemente mi serviva un tappetino nuovo, personalizzato, con un artwork ben definito e non volevo la solita cinesata e quindi mi sono affidato una ditta tutta italiana, la Playmate per tutti. Veramente in due giorni mando la grafica, mi rispondono gentilissimi e cordialissimi, e oggi mi è arrivato e voglio farvelo vedere anche a voi. Guardate qua, ragazzi guardate che bello, è fantastico, credetemi io da venditore sono abituato a quei tappetini brutti, scoloriti, scuri, sgranati, questo è fantastico, guardate la qualità, guardate l'immagine, guardate qua, totalmente in alta definizione, accesissimo, sembra di vedere uno schermo, è in dubbia, veramente ragazzi, è in dubbia la qualità altissima di questo tappetino, veramente, mi sono fatto un regalo a un prezzo abbordabilissimo, mi durerà tutta la vita e credetemi, probabilmente in un secondo momento me ne farò un altro così, ovviamente con un altro artwork. Ve lo consiglio ragazzi, ve lo consiglio, la Playmate per tutti, trovate le info per contattarli in descrizione, la loro pagina Instagram, la loro pagina Facebook, le informazioni per contattarli, ragazzi, ve lo consiglio, fatevi un bel regalo, fate un bel regalo, che ne vale veramente la pena, io sono veramente contento di questo prodotto e credetemi, io sono uno di quei player che crede che in un tappetino personalizzato c'è molto più sentimento di un tappetino da torneo. Quindi ragazzi, ve lo ricordo di nuovo la Playmate per tutti e ora scusatemi, tappetino nuovo e si va a giocare. Ciao ciao!